Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. L'amore tra Letizia Petris e Paolo Masella, entrambi ex partecipanti al Grande Fratello, continua a fiorire lontano dagli occhi del pubblico. La coppia si sta godendo un periodo dolce e riservato, segnato da una passione cresciuta nonostante, o forse a causa della, distanza. Recentemente, Letizia ha aperto il suo cuore riguardo ai futuri piani di convivenza con Paolo, sebbene ammetta che ci sono alcune difficoltà. Il desiderio di stare insieme è aumentato con la distanza, ma al momento ci sono complicazioni legate alla salute di mia nonna, che richiede la mia presenza e quella di mia madre, ha confidato Letizia durante un'intervista con Casa Chi. Parlando del loro rapporto, Letizia riflette sul supporto e sulla comprensione che Paolo le ha mostrato. Dentro la casa del Grande Fratello abbiamo protetto la nostra relazione. Abbiamo preferito affrontare tutto da soli, lontano da possibili critiche esterne. Nonostante le difficoltà, il legame tra Letizia e Paolo rimane forte, alimentato da frequenti incontri. Anche se viviamo lontani, ci vediamo regolarmente. A volte vedo Paolo più spesso di quanto non faccia con mia madre, ha aggiunto Letizia con un sorriso. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.